Nuova serata, lasciatevi travolgere da questa magnifica città, Campi Salentina, Lucigno è ospite di Campi Salentina, abbiamo Lele Mora e Fabrizio Corona qui con noi, vai musica DJ Rappa! Cos'è la trasgressione? Andremo ad indagare tra le vie di Campi, cos'è la trasgressione per te Piero? Ragazzi, per favore, le casacche per favore! Fabrizio, il pallone è una cassa di acqua, grazie! Le bottiglie portate pure nel campo! Caricare un pallone morto poi, quando finire chiude! Vicenti! Per favore, per favore, Maci, per favore! Fabrizio, abbiamo premodato da Campi! Sì, Maci! Chi è? Prendete le casacche! Basta, stavo subito alla villa! Puntuali! E siamo giunti alla villa, ultima puntata, Lucignolo! Ibrella è la vostra destra! Ma dove sta, Romano?